Si sono chiusi con tre ipotesi di reato di abuso edilizio i 14 mesi di inchiesta aperti dalla Procura della Repubblica di Pesero in merito alla legittimità alla costruzione delle due torri da 80 appartamenti la cui realizzazione era prevista sul terreno in area portuale nel quale sorgeva l'ex consorzio agrario, ovvero il rudere in degrado demolito a fine 2020. Un abuso edilizio ipotizzato per due tecnici progettisti e per il legale rappresentante sul territorio del fondo israeliano che è investitore di maggioranza nel gruppo edilizio deputato a costruire su questa area portuale. Proprio la specificità di quell'area bloccò tutto a febbraio 2021 quando si aprì l'incidente probatorio su sollecitazione della rinnovata direzione della Capitaneria di Porto. Una inchiesta che intendeva far luce sulla legittimità dei permessi a costruire in quell'area un complesso edilizio non destinato a fini strettamente portuali. Permessi che furono rilasciati dalle comune di Pesero nel 2018, motivo per cui gli stessi accusati non si capacitano degli sviluppi della procura. Una vicenda quanto mai ingarbugliata, passata in un'amen dalle prospettive di rigenerazione urbana al rischio di abuso edilizio e soprattutto al pasticcio di 80 appartamenti sui quali pendevano impegni d'acquisto e sui quali si è aggiunto oltre un anno di ritardo sul cronoprogramma di costruzione. Costruzione che ora si cerca di salvaguardare studiando mediazioni e scappatoie. La problematica finirà anche sul tavolo della nuova autorità portuale e non è da escludere un compromesso quale la rotazione con arretramento delle edificazioni sconfinando fuori dall'area di competenza portuale.